Ciao, sono Beatrice Vignali e ho 22 anni e sono un'attrice. Il mio percorso è cominciato in Action Academy. Sono arrivata a fare l'audizione e mi ricorderò agitatissima. Ho cominciato a chiacchierare con i docenti e il nervosismo si è subito sciolto. Sentivo che era il posto in cui volevo essere, era quello che volevo fare. Quindi ho fatto il mio provino e poi, grazie a Dio, è andata bene. E grazie a Action Academy sono potuta entrare in B-More Management, che è l'agenzia di cui faccio parte ora. Grazie a questa agenzia ho potuto fare vari provini e grazie a questi provini sono riuscita ad ottenere un ruolo in fiction. in prima serata su Canale 5 e sono stata veramente contentissima perché non me l'aspettavo. Settermi in gioco ed essere qualcosa di completamente diverso dalla mia natura è stato veramente divertente. Stare sul set è sia stressante, ma per me è solo che una gioia. L'unica cosa che pensavo era ti prego fai che non sia l'ultima. Fammi dire queste battute mille volte perché mi sentivo a casa. Sono veramente, veramente contenta. Spero che ci saranno tante altre occasioni come questa e intanto ringrazio tantissimo Action Academy. Grazie.